Maria Antonietta Mariani, tra l'altro di famiglia, ma anche lei grande amica della redazione sportiva di Telemolisi da anni, devo dire. Maria Antonietta, la nuova presidente della Proloco di Macchia di Sernia, che avete preso subito, siete i primi, che in sostanza avete preso un'iniziativa riferita alle Olimpiadi. Innanzitutto ringrazio tutti i soci della Proloco perché mi hanno voluta e sono molto felice di rappresentarli. Sì, abbiamo pensato di dare alla giudoca, alla campionessa olimpionica Centracchio e Maria, la tessera di socio onorario, perché crediamo per l'altissimo valore sportivo raggiunto. e lo dico anche con molta, molta commozione perché ci ha portato tutti quanti sul podio più alto del mondo, grazie alla sua performance. Quindi la ringraziamo tanto e speriamo a breve di averla a macchia per consegnarle di persona, insomma, la tessera di socia. Certamente, avete già 50 soci, chiamiamoli soci, e 15 fate parte del consiglio direttivo. Sì, abbiamo raggiunto questo magnifico numero di 15 iscritti come soci e tra questi soci sono stati individuati 15 membri del consiglio direttivo. veramente c'è tantissimo entusiasmo, noto tanta voglia di fare e in più abbiamo pensato anche di dividere i vari soci, di creare dei gruppi di lavoro in ogni settore. Quindi settore enocastronomico, turistico, paesaggistico eccetera. e speriamo di fare delle cose belle per il nostro paese, questa è l'unica cosa. Sicuramente le farete, tra l'altro voi a Macchia di Serna avete un campo di calcio in erba, molto bello devo dire, e state anche pensando di invitare, perché no, il vasto Girardi, lo stesso campo basso, magari a fare una visitina anche in periferia. Sì, noi ce lo spieghiamo, contatterò singolarmente i singoli presidenti o delegati dei presidenti e la speranza è quella di portarli a Macchia o una semplice amichevole o uno stage o quello che sia, proprio per dare anche valore al campo sportivo e alla storia di Macchia che nel calcio è stata sempre molto molto presente. Sicuramente, Macchia di Serna tra l'altro, devo dire, è un centro frequentato da tutte persone entusiaste. Sì, questo è vero, ci sono tantissimi personaggi, tantissime persone che amano il proprio paese e noi cerchiamo con la Prologo di metterle tutte insieme intorno ad un tavolo, sempre per il bene del paese, questo è l'obiettivo almeno, poi vediamo quello che ci sarà, quello che verrà.